Abbiamo celebrato quest'oggi come consuetudine doverosa questa data formidabile ed importante della nostra storia, il 75esimo anniversario del 25 aprile. L'abbiamo celebrato in un modo frugale, semplice, con toni bassissimi, senza dichiarazioni sul posto, senza neanche la deposizione di una corona, perché come sapete i fiorai sono chiusi, in un modo assolutamente sobrio, alla presenza di un rappresentante delle forze sindacali e dell'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiane d'Italia. Questa è una data che in questi giorni assume un significato ancora più rilevante. Per il passato celebrava la rinascita dell'Italia dopo la barbarie nazifascista, la democrazia riconquistata con il sangue e con il sacrificio di tante partigiane e partigiani. quest'oggi si tinge di un ulteriore valore. Da un lato è un po' un richiamo a quanti avanti negli anni ci hanno lasciati per colpa di questo virus, persone che erano un serbatoio importantissimo di valori, di ricordi, di storia, di sacrifici personali. Dall'altro assume un valore significativo perché ci piace credere che alla fine di questo tunnel che si comincia ad intravedere ci sarà una rinascita dell'Italia in un'unità di intenti tra tutti i cittadini con una speranza di futuro che dobbiamo coltivare per le giovani generazioni alle quali noi affidiamo naturalmente il destino dell'Italia. Quindi da questo punto di vista credo che sia molto significativo e simbolico quest'oggi la celebrazione sobria che abbiamo realizzato e soprattutto in qualche modo siamo soddisfatti per come sta andando l'andamento della pandemia nella nostra città. Anche ieri sono stati effettuati più tamponi al ruggi, nessuno positivo. A Salerno ci sono notizie di ieri 30 casi di cui 25 asintomatici e 5 ricoverati in ospedale ma non in terapia intensiva. Sembrerebbe che le cose in qualche modo lasciano immaginare una qualche speranza di futuro. Inizieremo con la progressiva e attenta riapertura delle attività commerciali e delle altre situazioni sociali che sono rimaste chiuse con gradualità, prudenza ed intelligenza sapendo che un passo falso ci può far fare dei passi indietro terribili che non ci possiamo né ci dobbiamo consentire. Noi affidiamo a quanto farà il governo, ci affidiamo a quanto ha fatto il Presidente De Luca, Presidente della Regione Campania che ha svolto una funzione imprescindibile, che ha salvaguardato i nostri territori da fenomeni che potevano essere potenzialmente disastrosi. Devo ringraziare tutti le forze dell'ordine, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, i volontari, tanti volontari che hanno condotto una battaglia di grande momento e di grande responsabilità personale, tutti i dipendenti comunali, dirigenti. Veramente c'è stato un afflato comune che ha consentito a questa città di non avere un collasso. Credo che su questa strada si debba andare avanti e credo che per il futuro ci possa essere una qualche ventata di ottimismo che spero venga riconfermata dai fatti nei giorni a venire.